Due lettere anonime che conterrebbero delle minacce sono state recapitate ad Antonio Scalzo del PD, presidente del Consiglio regionale della Calabria. Il presidente Scalzo ha incontrato in mattinata il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi. Durante il cordiale colloquio che si è tenuto nell'ufficio del dottor Grassi, il presidente Scalzo ha informato quest'ultimo di aver ricevuto due lettere anonime il cui contenuto è stato acquisito in coppia dall'autorità di pubblica sicurezza per gli accertamenti del caso. Grazie